Salve a tutti amici astraliani, preparatevi perché sabato 9 aprile ore 22 nella sim radio Astralia City si terrà una serata folkloristica, si si avete capito bene, io e Tina abbiamo preparato una location per creare la tipica piazza italiana dove potremo ascoltare esclusivamente la musica della nostra amata penisola, vi aspettiamo numerosi e vestiti con abito a tema quindi tirate fuori gonellone, coppole, tamburelli e diamo via alle danze dove? Manela Sim Radio Astralia City, quando? Sabato 9 aprile e aspettate, vi scrivo tutto su questo tamburello ecco qui ecco qui anzi guardate ve lo faccio pure luccicare e voilà va bene così va bene così ok ora vi lascio con un po di musica a presto ciao compari Ciccio andiamo facciamo una stompata compari e le fatte vostre non mi piace permettete che questa tarantella compara e le tascattiche è la vostra dolce in onda da E' a faccia di Pugiatina, a faccia di che stai becciando tutto il tuo parconi E' a faccia di Pugiatina, a faccia di che stai becciando tutto il tuo parco E' a faccia di che stai becciando tutto il tuo parco E' a faccia di che stai becciando tutto il tuo parco E' a faccia di che stai becciando tutto il tuo parco E' a faccia di pugiatina